Ciao a tutti, bentornati su TheGamesBru, io sono Roy Lovat e oggi vi porto la demo di un titolo che stavo aspettando da tantissimo e su cui finalmente posso mettere le mie dolci manine, ovvero, come vedete, The Lamp Lighters League. Un titolo con un pedigree non indifferente, dato che dietro troviamo Paradox e Hairbrained Schemes, ovvero coloro che hanno sviluppato uno dei miei titoli preferiti di sempre, ovvero Battletech, ma anche la trilogia di Shadowrun e poi ovviamente Paradox, che troviamo dietro a tantissimi titoli ottimi, come il recentissimo Vittoria. Quindi, dei padrini, dei genitori di altissimo livello e un titolo molto particolare, molto intrigante, perché è un titolo alla XCOM, con combattimenti a turni, ambientato nel 1930 in una terra un po' diversa da quella a cui siamo abituati. Infatti, come vi dicevo, è piuttosto una terra in cui troveremo personaggi molto particolari, proprio come la leggenda degli uomini straordinari, particolari mercenari, fuori legge, che dobbiamo arruolare per far sì che la terra non venga dominata dai cattivissimi membri della Banished Court. Quindi dovremo appunto arruolare decine di personaggi differenti, con abilità differenti, e metterli al servizio della lega dei Lamp Lighters, ovvero i buoni di turno, per bloccare appunto le mire, contrastare le mine di questi cattivoni della Banished Court. Il gioco sembra molto, molto promettente, molto ben fatto, devo dire. L'atmosfera di gioco è veramente accattivante, così come le abilità e i vari personaggi. L'unico Neo che ho trovato per ora, tenendo in conto che ovviamente si tratta di una demo il gioco, anche se il gioco poi completo uscirà a breve, il 3 ottobre, l'unico Neo dicevo che ho trovato è che il gioco, trattandosi di un titolo poi prodotto da Paradox, non è tradotto ovviamente in italiano. Paradox odia, tra virgolette, i titoli, tradurre i titoli in italiano, quindi anche questo, a me, ce lo dovremo mangiare in inglese. Se è un grandissimo problema, nì, c'è del testo, fortunatamente non ce n'è tantissimo, il doppiaggio è molto bello, quindi potremmo apprezzare anche quello, però ovviamente per tutti coloro che non sono ferratissimi in inglese, questo capisco che potrebbe essere un problema. Se il gioco vi dovesse interessare, qua sotto in descrizione troverete il link alla sua pagina Steam. La demo è disponibile però anche su Epic Store. Detto questo, lanciamoci alla scoperta di The Lamp Lighters League. Musica avventurosa. 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 The courier is late Hey You're welcome Well done What's your name again? The gentleman Jim At your service Hmm And we're married to that name, are we? What's wrong with my name? How about I find our missing courier? You stay here and guard my back? So you can get the baggage yourself and cut me out of the job? Ah, nice try Whatever you say, gentleman Jim Was that so hot? But that's my professional name You can just call me Latif Ok, allora Una cosa che assolutamente devo dire E che mi ha colpito dall'inizio E che il gioco fa un ottimo lavoro Nel catturare l'atmosfera tipica Dei film noir Ma anche dei film d'avventura Tipo Indiana Jones È molto molto ben costruito Per quello che ho potuto vedere Sia a livelli di gameplay Che a livelli di narrazione Riesce a tenere attaccati allo schermo Qui ovviamente il gioco Si controlla come XCOM Ci sono come vedete Dei punti di interesse Con cui si può interagire A volte si può Semplicemente origliare Una per esempio Conversazione In altri casi invece Troveremo Elementi che Ci diranno un pochino più Dell'ora di gioco E a quanto pare Siamo stati Assoldati Da questo misterioso Mr. L Che immagino sia Mr. Lamplighter L'esplorazione Avviene in tempo reale Poi quando Incontreremo un nemico O decideremo per esempio Premendo R Per entrare in questa Modalità ricognizione O contro Per attivare La modalità turni Appunto Si avvierà La modalità Di combattimento a turno O Questa appunto D'esplorazione Vedi qui c'è un altro Punto da esplorare Allora in questo caso Alcuni Alcune classi Hanno delle possibilità Che altre classi non hanno Per esempio La nostra Picchiaduro Ingrid Non può Scalare Mentre si Che lo può fare La Tiff Aprendo quindi Una via Per la nostra Alleata Il gioco Prevede O comunque Consiglia Di Utilizzare I personaggi All'unisono In modo da Sfruttare Le diverse Abilità Per creare Trappole O per creare Diciamo Delle combo Pazzesche Con cui spazzare Via il nemico Queste che vedete Qui Adesso ancora Non le possiamo Utilizzare Sono delle abilità Utilizzabili Solo durante La fase In tempo reale Che servono Per eliminare In modo silenzioso I nemici E quindi ridurre Il livello di soldati Con cui poi Ce la dovremo Vedere In questo caso Per esempio Ingrid Ha poi Anche altre Abilità Oltre a queste Per esempio Può distruggere Delle pareti Indebolite Vedete Non ha fatto Ridurre questo Perché questo È un altro È un'altra azione Quelli che vedete Queste ondine Bianche Sono praticamente Il rumore Diciamo Il cono Del rumore Che potrebbe Attirare Ovviamente Il Nemico E qui C'è una comunicazione Tra Monsieur T E L Che richiede Di portargli Queste misteriose Carte Che abbiamo visto Anche nella presentazione Quindi Bisogna fare attenzione Perché il nemico Può essere allertato Tanto dai suoni Come dalla Dalla nostra Presenza Non c'è il cono visivo C'è più Un raggio Visivo E ovviamente Facendo troppo rumore O finendo davanti A un nemico Attireremo La loro attenzione Alcune classi Come L'infiltratore Possono diventare Ecco vedete Ancora più invisibili E rimanere anche All'interno Dell'area Visiva Del nemico Possiamo muovere I personaggi Singolarmente Con G Tutti insieme Però fate attenzione Perché Quando li muoviamo Insieme Il cono visivo La nostra Diciamo Capacità Di essere silenziosi Di mezza Quindi Perché viene fatta Una media Quindi a volte È meglio andare avanti Con l'infiltratore Per essere ancora più Silenziosi Il corriere Come abbiamo visto È morto E il pacchetto È stato rubato Esteticamente Devo dire Molto molto Bello Siamo a In Francia Degli anni Trenta Adesso Dobbiamo andare A cercare Di scoprire Che fine Abbiamo fatto Il pacchetto E soprattutto Chi è questa gente Vestita da Tedeschi Aspettiamo Ingrid Ok come vi dicevo Possiamo Sfruttare Le abilità Dei vari personaggi Per Cercare di Ridurre Il numero Dei nemici Inoltre Inoltre I vari elementi Del Dello scenario Ci permetteranno Di Di Rimanere Nascosti E Di far passare Il nemico Ma soprattutto Di ottenere Una difesa Contro I loro attacchi Ovviamente Queste abilità Per eliminare I nemici Nella fase Di Esplorazione Sono limitate Infatti Vedete Adesso Ce ne abbiamo Due E non tre E adesso Facciamo lo stesso Ma con Ingrid Facendo attenzione Perché ovviamente Vedete L'area Di intercettazione Del nemico Con Ingrid È molto più Ampia E aumenta pure Quindi dobbiamo fare Tipo così Ma lei è potentissima Con un colpo Si può liberare Di due Nemici Andiamo a Richiamare Anche l'altro Non te ne andrà Spasso Non è sempre Necessario Uccidere I nemici Possiamo anche Cercare Di passare Non visti Tra le fila Del nemico Facendo Moltissimo Moltissimo Attenzione E appunto Vedete Possiamo utilizzare La copertura A nostro Vantaggio E non Venire avvistati Lì c'era Un pallino Per origliare E adesso ci dice Prima Come un po' Appunto In XCOM Prima di Attaccare Questo nemico Adesso ci fa Provare Il combattimento A turni Dice Posiziona I due soldati Come preferisci In modo da creare Una Un'imboscata Perfetta Ed iniziare Il combattimento Secondo Le nostre Diciamo I nostri Desideri Stanno I nostri Termini Allora Dove qua Per esempio Adesso Potremmo fare Vedete Poi più rumore Facciamo Più aumenta Quest'area Rossa Vedete Tic Occhio quando Cliccate dietro I vasi Perché in casi Come questi Lei potrebbe saltare E creare casino Adesso Noi facciamo così Control Iniziamo a far rumore Qui ci dice Tutto quello che possiamo fare Vedete Abbiamo delle abilità Super Come questa Che permette di creare Un Una bambola di pezza Che attira Il nemico Creiamo una nube Fumogena Diventiamo invisibili Eccetera Però può essere utilizzata Una volta per missione Quindi Quando la utilizziamo Dobbiamo essere Assolutamente sicuri Che quello sia Il momento migliore Per utilizzarla Lei invece Ha un'abilità Che permette Di Stordire E fare danno A più nemici In contemporanea L'importante Che siano appunto Nel raggio Della sua Della sua Azione Adesso Possiamo muoverci Vedete Abbiamo due punti azioni Un certo numero Di munizioni Che cambia Seconda dell'arma Possiamo ricaricare Muoverci Mettere in over Watch o sparare Io direi Spariamo immediatamente A destra Abbiamo tutte ovviamente Le statistiche Tutte le informazioni Sull'abilità Le statistiche Invece per colpire Il nemico Sono qui Il numero in giallo Indica la percentuale Di possibilità Che abbiamo Di fare critico Uno Adesso vedete Abbiamo iniziato noi Però abbiamo Già posizionato Le là Vedete Ha questa abilità Potentissima Massacro Che però adesso Noi non utilizzeremo E invece usiamo Questo Colpo Inoltre I nostri personaggi Hanno anche Ecco vedete Dei tratti Particolari Che gli permettono Adesso qui non ce l'hanno Fatto vedere Saranno poi Nella descrizione Dei Diciamo Dei personaggi Che gli permettono Di ottenere Dei bonus speciali Per esempio Lei ha la possibilità Con un attacco Portata a termine Di ottenere Un attacco Ulteriore Quindi Questo ci permetterebbe Di creare Una catena Di attacchi Lui invece Muovendosi Può ottenere Una Prende Un dodge Una possibilità In più Di schivata Allora cerchiamo Di far fuori Questo Senza che Questo ci veda No Ok Qui possiamo Origliare Non è ancora Tornata Vero Rilassati Il cavo Ha detto Che sta pregando Pregando Ma ho sentito Delle urla No Non l'hai sentito Mi hai capito Quando si tratta Di Nicastros Tu non hai sentito Niente Ok Bella sta cosa Che più ci muoviamo Più aumenta L'area di L'area in cui Ci possono Scoprire Facciamo Questo Le permette Di evadere Il primo Attacco E' ottimo Soprattutto nel caso In cui dovesse Rimanere All'aperto Vediamo se Riusciamo a Ottenere subito Un altro attacco Ahimè No Ma adesso lui Lo dovrebbe Far fuori Tanto Possiamo fare Anche così Possiamo scegliere Da che parte Farla attaccare Per evitare Di intralciare I nostri Amici 80% E ce l'abbiamo Fatto Ok Ok Allora Com'è Mister L Ha un'ottima Calligrafia E paga bene Ok Allora Non l'hai mai vista Neanche tu Ok Qui le cose Già si fanno Un attimo Più serie Perché come vedete C'è un sacco Di giuenteli Quindi dobbiamo Un attimo Pianificare Attentamente Le nostre mosse Io direi Che qui Potremmo utilizzare Lei Se riuscissimo Ad avvicinarci Per Far fuori Questi due Oppure Potremmo schiantare Questi qui Eppure Non sarebbe Una cattiva idea Eh Io potremmo andare Con lui Lì Qui c'è Dell'oro Lady Nicastro È stata Mandata A recuperare Il mazzo Di carte E Gli ha Mandato Questo Personaggio Misterioso Una scorta Allora Tu rimani là Vediamo un po' Se riuscissimo Allora Tipo Se stessero Qui Cioè Se stesse Qui Lei E loro Qui Ci vedono Qua Io spero Di no Vai Ci sono sempre Molteplici Possibilità D'attacco Eh Non c'è mai Un Un modo solo Per eliminare I nemici Quindi Esplorate Sempre La mappa Cercate Quelli Che vi Sembrano I Modi Migliore Di Attaccare Il Nemico Ma Lei Sta qua Ma 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 Chama Deo no non volevo overwatch volevo questo vede più evasione e noi andiamo qua aspettiamo che loro si avvicino e adesso dovremmo essere in grado di utilizzare questa questa oltre a fare danno stordisce anche il nemico abbiamo preso pure un'azione in più non c'è un limite potremmo ottenere anche 3-4 azioni aggiuntive di seguito ok preso il pacchetto via ok missione compiuta la prima parte perlomeno dentro il pacchetto dentro il pacchetto ci sono le carte che apparentemente sono bianche un'armata di soldati uniforme ha ucciso un uomo solo per un delle carte bianche ovviamente ci deve essere di più e adesso dobbiamo scappare dobbiamo incontrare il pilota che ci porterà via non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile arrivare qui prima di noi allora questi soldati sono riusciti ad arrivare al porto prima di noi e non sappiamo bene come e quei soldati che avete visto con l'occhio giallo sono dei soldati estremamente allerta che non possono essere atterrati neanche dagli incursori e non possono essere attirati lontano dalla loro posizione un po' come gli ufficiali in commandos e qui scopriamo un'altra cosa dice notte fredda dice no non è che fa freddo ma è questo questa sorta di teletrasporto che hanno usato per arrivare qui perché parlano di un crossroads e di quando lo attraversi e ci sono degli indizi che ci fanno supporre appunto della presenza di un dispositivo no io volevo andare solo con lei qui simile appunto al teletrasporto che avrebbero utilizzato per presentarsi per arrivare qui prima di tutti noi adesso io qui vorrei fare così boom sono morti tutti quelli allora per sicurezza andiamo qua ok dodge ora possiamo fare così rimanendo in copertura l'abbiamo stordito ottimo abbiamo preso un altro attacco fantastico perfetto abbiamo anche un altro attacco il problema è che lei almeno per ora non ha armi armi da tiro armi da fuoco quindi non possiamo sparare al nemico aia ma lì pensavo stesse qui fortunatamente non ci ha visti andiamo cazzottone aspetta ovviamente ovviamente gli attacchi alle spalle o ai fianchi fanno molto più danno qui purtroppo pensavo lo vedesse ma invece no proviamoci comunque lisciato chiaramente facciamo così ottimo uno e due ok non sanno chi siano ok sta lei di nicastro fa degli tipo non degli esperimenti ma è tipo una rispice una augure legge le interiora degli umani per capire che cosa fare e qui vedete se clicchiamo questo container dice che c'è un rumore metallico molto strano e fa troppo freddo per una notte parigina almeno in questo mese dell'anno quindi probabilmente c'è un dispositivo che hanno utilizzato per arrivare qui in fretta e qui troviamo il nostro terzo contatto ok lui è in grado di scassinare le serrature e poi ha queste mine che stordiscono il nemico e che possono anche essere utilizzate sull'acqua per esempio per stordire più nemici e qui troviamo degli oggetti alcuni degli oggetti possono essere utilizzati durante la fase del in tempo reale altri durante la fase a turni altri in entrambe le fasi abbiamo preso delle bende adesso prendiamo qui il lore hanno mandato alle 21 questo è il registro del capo del porto circa alle 21 un drappello di truppe si è materializzato nel porto 94 ha cercato di bloccarli e poi niente non abbiamo più informazioni perché il racconto termina come se fosse stato bloccato è di Sawyer come Tony Sawyer probabilmente questi attirano il nemico in un'area e possono elettrificare l'acqua o accendere no vedete purtroppo a volte succede questo non è proprio un maschio o possono dar fuoco al petrolio che cos'è ciao morto state sempre attenti quando muovete i soldati lì perché altrimenti fanno quel saltino e vi fate scoprire correndo ovviamente facciamo più rumore lì c'è un altro io direi facciamo un'altra cosa neanche lui sa chi siano allora questo lo facciamo fuori con le armi perché non voglio sprecare gli attacchi speciali e useremo proprio lui ok lui ha un attacco multiplo perché ha due pistole quindi possiamo colpire due volte lo stesso personaggio o due nemici differenti faccio una cosa prima però aspetta no ok overwatch e adesso apparentemente non so se è solo in questa fase e invece viene recuperato automaticamente perché dicevo che appunto in questa fase non viene i nemici non droppano loot lo possiamo trovare solo intorno alla mappa cioè sparso nella mappa come in questo caso non so se appunto poi nel gioco completo ci sarà fine missione tipo un inventario generale degli oggetti che il nemico ha droppato o sia proprio così il gioco completo prendiamo delle bombe quello ci ha visto anche a noi come mai strano allora mettiamoci qua tu ok aspetta ce ne dovrebbe essere un altro non so perché non si veda quindi faremo così ah no abbiamo preso pensavo andasse a fuoco tutto e invece no ok ah si che droppano ok ah si vede che l'altra volta sono stato particolarmente sfortunato che non hanno droppato niente ero convintissimo che sarebbe andata a fuoco tutta la chiazza di petrolio ma no ma questi sono messi in file e quindi potremmo utilizzare la sua abilità che chiaramente è uno sbarramento di fuoco ma direi evitiamo usiamo questa qui possiamo fare così oppure così no uccidiamo lui grande tom sawyer e poi te lui come abilità passiva recupera munizioni vediamo un po' che ha droppato ah beh chiaro ha droppato la chiave allora però prima di andare lì io volevo andare a vedere di qua perché ci sono delle aree che sono facoltative ma dove potremmo trovare del materiale questa è una delle aree facoltative allora dove vai qua rendono il combattimento più difficile ma ci permettono di avere più loot dall'alto abbiamo un vantaggio agli attacchi io volevo fare così adesso vai ok avrei dovuto mettere lui in overwatch no che cacchio si ci sono momenti così in cui eh è che proprio funzioni al massimo oh ok ottimo critico abbiamo lisciato potremmo provare con lei in realtà nel caso dovesse perdere prendere un po' di danno tanto abbiamo un sacco di vita facciamo sì grazie alle più due munizioni così non dobbiamo ricaricare non c'è dato un'altra azione quindi proviamo così 85 vai alle nonostante quel problema all'inizio siamo riusciti a uccidere tutti vediamo un po' che loot c'è dell'altra medicina e questa bomba elettrica vai figo ok quell'altro medkit non lo possiamo prendere e adesso proseguiamo una volta che abbiamo preso la chiave con personaggio la possono utilizzare tutti quanti ci sono degli elementi comuni ok c'è il c'è il pilota nel frattempo abbiamo trovato Cthulhu e qui è il caso per esempio di utilizzare potrebbe essere il caso di utilizzare R per esplorare la mappa e vedere un attimino l'area di combattimento ah c'è pure Lady Di Castro Nicastro allora gli Shions sono soldati particolarmente potenti potremmo decidere di scappare o potremmo anche affrontarli sta a noi scegliere cosa fare ma io vorrei uccidere queste due quanti volei sperando che Lady Di Castro lì Nicastro non ci veda il problema è che lì ci vede quello là quindi dobbiamo farli fuori quando stanno qui più facile a dirsi che a farsi e quando stanno qui potremmo attaccarli poi vorrei andare qua su uccidere la Nicastro con il fuoco anche se lui non ha la Molotov ma la la bomba elettrica dai avremmo potuto sparare a questi in realtà ma la Nicastro sta lontana quello era un ottimo momento in cui far esplodere tutto ok adesso ok via 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 ok questi li abbiamo uccise questo non lo possiamo far fuori perché si attiva da andiamo No Pensavo che questo Avesse lo stesso effetto Della Della mina dell'altro Che facesse esplodere tutto Ma invece no Ok Male Ok Vai Forse prenderemo un po' di danno Ah no 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 Perché abbiamo preso questo Ok Facciamo Maledetto Maledetta Ci ha tirato il pugnaletto avvelenato Ok Evasione riuscita Uno Allora Te non mi piace per niente Siamo a questo Lascialo là E tu vai qua giù Ok Siamo invisibili E ora il nemico dovrebbe sparare qua su Vediamo un po' eh Danno in area iconica Dovrebbe essere rimasta solo lei E quell'altro scagnozzo lì Il fatto che lei ha tantissima Oh E questo Ok Ogni combattimento è differente Questo nella prima run Non l'ha mai fatto Fantastico E vediamolo eh Allora Ricarichiamo E Overwatch Ehm Ritirata Tu Vai qua Ok Bene Sta ancora sparando a quello E' scappata Caca sotto Ok Allora vediamo un po' Se adesso Riusciamo Ad avvicinarci A lui Ah Potevo usare l'abilità Vero Come on Come on Come on Make a move Oh Si è messo sul barile Ciao Ciao No Non è esploso il barile Allora Ok Ok Gli alleati possono combattere con noi Ma di solito servono più per le fasi Off combattimento Fuori dal combattimento Immagino tipo nella base Non c'è questa fase nella demo Però è bello L'idrovolante Ok e così termina La demo di The Lamp Lighters League Come avete visto Il gioco promette Veramente veramente molto bene Io l'ho trovato Veramente particolare Molto ben fatto Rifinito Con un'atmosfera Davvero particolare Davvero Intrigante Spero con tutto Me stesso con ogni molecola Del mio essere che anche il gioco finale Sia all'altezza di questa demo E sia anche meglio I personaggi sono caratterizzati molto bene per quello che abbiamo visto Le abilità sono molto differenti C'è tantissimo da fare Ci sono più possibilità Di attacco Quindi si possono pianificare strategie differenti Si può interagire con l'ambiente Ci sono combattimenti facoltativi Eccetera Molto molto bella questa demo Incrociamo le dita che il gioco che esce il 3 ottobre sia Così bello e ripeto anche di più Fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti E ricordate che in descrizione troverete il link alla demo Che potrete provare sia su Epic Store che su Steam Inoltre vi ricordo che come sempre Qui sotto potete lasciare un mi piace al video E iscrivervi al canale Come sempre io sono Roy Lovat E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao